Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo episodio di Warhammer 2 Total War con il nostro Eltarion Vi ricordo che avevamo anche preso Imrik, quindi avevamo ben due Lord ragazzi, abbastanza grossi e cattivi da poter utilizzare Allora, abbiamo conquistato il nostro campo di Orion, quindi appena il gioco decide di... boh, ok, grazie E dovevamo fare un pochino di upgrade anche economici e sistemare, non so perché mi sta scattando così oggi, boh Me lo fa spesso, ultimamente quando avvio Warhammer, ecco, la prima volta che clicco mi dà questo tipo di problema Allora, che cosa ci andiamo ad alzare? Marce inarrestabile? No, questo... questo non mi interessa Forse andrei a prendere di nuovo la Fenice? Sì, ci prendiamo un'altra Fenice Lui invece gli diamo, gli diamo, gli diamo Antico valore E lei? Qua l'avevamo preso tutto, esatto In mortalità non possiamo ancora, mi pare di arrivare al 20, vero? Sì, sei al 18, va bene Allora, lui qua è a posto, dobbiamo fare un reclutamento Vabbè, per ora non reclutiamo perché lui me lo vorrei portare a casa Qua, ok Scegliamo una ricerca Allora Sì, ci facciamo lui Nuovo decreto E vabbè, ovviamente è crescita E... possiamo fare la fine turno Vorrei vedere un attimino qua sopra come stiamo messi Attacchiamo? Che dito? Aspettiamo un turno ancora Io aspetterei ancora un turno Aspettiamo un turno, va? Ok Corri, corri Vai Adesso Vorrei portare Imrik giù Così che Vabbè, questi siamo assedi Guarda che rottura di palla Questi E vabbè Ah, proprio così? Ok Vai E dovremo avere sconfitti del tutto Chiamata le armi Difensore Entra in guerra a fianco del tuo alleato Sì Entriamo Tanto comunque li vogliamo dichiarare guerra Ok Difesa Ok 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 Stiamo distruggendo parecchia roba Non so se ce la facciamo Vabbè Direi di sì Vai Interriamo truppe O rank No, io direi rank Perché comunque l'integrazione adesso Non è che ci serve tantissimo Interriamo L'hai fatto il level up Ti do Volto al dente Vorrei sostituirla Non vorrei portare Imrik qua Fare un cambio Allora sì Facciamo così Qua abbiamo sistemato Corruzione come siamo messi Non benissimo Di nuovo un altro level up Fare un mondo a pezzi Però mi dà l'ordine pubblico Però a disciplina del nemico Ma quasi quasi ragazzi Quasi quasi Tu continuo a immortale Ok Indomito maestro di lame No andiamo con il maestro di lame E tu giovanotta Vai con a questo punto Ci andiamo a massimizzare Andiamo scuso di spine Ok Iniziamo a fare La nostra traversata E beh qua Tu rimani qua Imrik A questo punto Si rimani qua Certo Qua non potremo conquistare Ordine pubblico Costi di costruzione Relatività di l'integr Riesci da meno 7 Vabbè va Lo facciamo? Perché che dovremo conquistarci? Eh tutta sta roba Non ci conviene Non ci conviene Teniamoci imrik Ancora un attimino Qua dentro In modo tale da Da magari rafforzare Un attimino Le sue truppe E capire se ci avremo Problemi poi Nel nostro territorio Ok Qua possiamo tirar su E qua possiamo distruggere Perché comunque Abbiamo portato tutto Al massimo Quindi questa roba Non ci serve più Potenziamento Bello Questo mi piace E l'economia La stiamo Un pochino sistemando Non so se reclutare Anche Un Un nobile Magari qui Ma non credo che qua Lo posso fare Vero? Sì lo posso fare No No mi serve Semplicemente Un Però tu qua Sei al 2 2 2 Tutti al 2 Vabbè Ce l'abbiamo qualcosa Che Senza fisica Bonus grado di 1 Tutte in unità Ottimo Addestramento Questo non è male Ma visto Ve lo chiamo a Imrik Ma sì Dai Vai Ok No Menta il commercio Mettiamo il commercio qua Ragazzi Perché Andremo poi a costruire Un pochino di cose Qua Vedete Ci abbiamo Qui Ci abbiamo lui Qua Non ci abbiamo niente Qua Ci abbiamo loro E qua Ci abbiamo loro Quindi Sicuramente qua Ci andiamo a lavorare Ma Direi che Possiamo passare Alla fine dei conti Abbiamo fatto tutto Quindi Vai Ok Ordine dei custodi Con i risvegliati Chi se ne frega Adesso dobbiamo andare a conquistare L'accampamento sopra Dai Va bene Entra in guerra Che dobbiamo fare Non credo che riusciremo a prenderci All'Ariel Ci posso provare Ma la vedo parecchio difficile Vediamo un po' No Infatti Non ci verrà mai È troppo Oh Che vale quello Qua che facciamo 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 Le pelli Ci da Non lo so Forse si Si facciamo le pelli E Tu Vai qua sopra Arriviamo fino a qui Ci mettiamo in modalità Accampamento Vai Ok Ok Qua abbiamo risolto Qua abbiamo distrutto un po' di cosette Quindi Andiamo a costruirci Un muro Oppure L'ambasciata Forse conviene un'ambasciata Il muro Ragazzi Non ne vedo la necessità Di farlo qui Sinceramente I brumanti Ce li vogliamo fare pure qui Ma non credo serva In realtà Non credo Non credo ci serva Ok Vabbè Tu rimani qua Quindi Rimani qua dentro Nuova tech Lui Ok Lui Assolutamente Qua Oddio Ok E ci costruiamo L'ossidiana Si Costruiamo subito L'ossidiana No Ci conviene fare Prima lui E Ok Tu Altarion Vai Qua Ok Appena Altarion Arriverà Inizieremo a fare Il nostro esercito Super OP E faremo L'ultima battaglia Contro Grom Comunque Siamo abbastanza Ritte che vuoi Giovane No Minimamente Ho fantasia Ok Ok La spada di Kane Chi l'ha presa Aia Qua ci abbiamo Anche una rivolta In atto Sento alcune tasse Ah Già le avevo tolte Nice Facciamoli rivoltare Si facciamoli rivoltare Non so Ce la dovrei Qua andiamo a più 10 Ok Facciamo così per adesso Tu rimani qua Va bene Tu ti muovi Ok Perché noi Dobbiamo arrivare Assolutamente qui Ci mettiamo un bot Ma va bene Vai andiamo La spada di Kane Che ce l'hanno loro Non mi piace per niente Però insomma Per adesso Non sono fatti nostri Dovremmo riuscire a A reggere il tutto Alleanza difensiva No Non mi posso Alleanche con te Adesso Non riasco proprio Mi dispiace Pronti al dovere Va bene Qui a posto Tu sali qua Ok Ottimo Ottimo Qua siamo arrivati Quindi sicuramente La dovere del guardiano Ce la facciamo I draghi L'abbiamo fatti E Dobbiamo alzare l'oro Dobbiamo alzare l'oro Che li voglio su Alziamo Lui E mi alzo Anche Anche Le ancelle Per Struttura di livello 3 I cavalli non mi interessano Me le faccio le ancelle Quasi quasi Più che altro Perché No Forse mi faccio lui Sì Ci facciamo lui Ok Vai Qua ci siamo No Qua è tutto pronto Dobbiamo fare Ok In realtà potremmo anche andare qui Fare un attacco Però ci serve ancora Un pochino di Non so se fare anche un editto Magari per l'ordine pubblico Cioè un editto Un Come si dice Un rito Però Boh Effettivamente sta scendendo a dismisura Questo qua Quindi dovremmo riuscire Senza troppo impegno Ok Upgrade Qua a posto Questo non mi interessa Punti guidano Assegnati Mestre di lame E vai No Sei tu Vai qua Ok Potremmo far lui Cinque turni No vabbè Aspettiamo Andiamo al prossimo Ok Pure il plus ci sta E questo ci piace Ma penso che adesso Ci potremo anche iniziare a muovere Comunque abbiamo meno tre Tutto sommato Non è Meno tre a turno Non è proprio Sto gran Sto gran Difficoltà Sì Meno sessantotto Vai alziamo capitale Qua è il problema Quindi Passiamo qui E ok Qua ci siamo A posto Abbiamo sistemato Se la tasso Meno sei No per ora non la tasso Ancora E Urca Qua ci siamo scordati ragazzi Questo è grave Lui Come andiamo Di qua Meno sette E qua Meno uno Quindi Inizia a camminare E andiamo Qua giù E Sì Ok Siamo quasi arrivati Ragazzi Dovremmo arrivare Nel preciso momento In cui Terminiamo Tutte le strutture Su La nostra capitale Quindi faremo Un esercito Enorme E E Veramente Daremo Grandi problemi Ai nostri Avversari Te che vuoi Chi se ne prega Del tuo tratto Qua non ce la facciamo Quindi arriviamo di nuovo qua Come eravamo Come abbiamo fatto prima Ok qua siamo Meno uno Quindi Perfetto Vai Adesso Questo Lo possiamo Anche togliere Mettiamo lui Qua Facciamo Gli ultimi Upgrade E Ci siamo Edifici di intrattenimento Non è che ne abbiamo Chissà quanti A questo punto Andrei Con un Boschetto E Andrei Con i Brumanti O Loro Facciamoci la Fucina Giusto per averla Mica per altro Ragazzi No Qua non mi interessa Nulla Ok Qua Vai Vai E vai Ok Tu Vai qua Guadagniamo 8k A turno Quindi Perfetto Vai Passiamo Dovremmo essere pronti Ah ci siamo scordati Imerich Va bene Non fa niente Poi lo spostiamo di qua Così Alleanza militare conclusa Va bene Rito della gloria primordiale Compiuto Va bene No problema Addio tutti Tutti questi sono veramente fastidiosi Allora noi con tutta questa masso di influenza ragazzi Non credo che ci faremo grandi cose L'unica cosa che potremo fare È semplicemente Iniziare a corrompere Un po' Le trattative Con le volazioni a noi vicine Ma di più insomma Non credo che Potremmo fare No Ok Magari poi Darde di fuoco Tempesta Darde di fuoco Ok Qua ci siamo Potremmo anche iniziare a fare tipo Due Due Tre Quattro Averlon Questo E lui Ok Abbiamo spesa tutta Tanto ne guadagniamo 14 a turno ragazzi Quindi Non è Attualmente non ci facciamo proprio nulla Giusto magari per reclutare qualche lord Ma insomma Non è che ne abbiamo bisogno Ecco Mi sono scordato di fare l'attacco Questo Un vero peccato Servificio Ok Ok Hi mage Vai Diamogli un po' Di botte Ok Vai Qua ci mettiamo delle mura però Potremmo metterci delle mura perché Potrebbe essere pericoloso Non lo so ragazzi Io le mura le metto Ok Allora Vai No glory Faccio vedere Molagloria Allora Iniziamo a riludare Anzitutto Questi archi li vorrei cambiare Perché Vorrei mettere qualcosa di meglio Sicuramente Loro Sono una figata Però anche i principi drago Allora innanzitutto Principi drago Si Tanto mettete in modalità Accampamento E loro due Li buttiamo Dopodiché facciamo Drago del sole O drago delle stelle Da finisce Lei la buttiamo E ci facciamo Il drago delle stelle Però ecco Loro sono fighi Che dite ragazzi Ma si Dai Vai Loro Ok Abbiamo finito Con reclutamento Globale L'unica cosa Che mi rende Perplesso Ragazzi Sono Effettivamente Loro Allora Questi sicuro Li butto Sicuramente Li butto Allora Facciamo così Prima di fare Questo reclutamento Che costa un sacco Buttiamoci loro Ci abbiamo pochi archi Loro Sono interessanti Però ecco Potenza di tiro No Vorrei qualcosa Di un po' più Eh loro Non sono male Ci hanno pure Gli scudi Ci andiamo a affrontare Contro degli orchi Quindi gli archi Ci potrebbero servire E non poco Mi servirebbero le ancelle Per gli archi Mi servono le ancelle Assolutamente Vediamo un po' Se loro hanno finito qua Sì Hanno finito Ok Ci facciamo le ancelle Quindi qua Mazza Quattro turni Oh Sei proprio Sei proprio con fame Ok Allora Torniamo con questo Tipo di reclutamento Che stiamo facendo Prima E Dopodiché Ci mettiamo Tre unità di ancelle E L'araldo Lo togliamo Forse Non lo so Vediamo Tu passi Ok Polto ardente Vampata di fiamme Vampata di fiamme Corruzione Dov'era Dov'era Incontaminato Vai Eh sì Dopo Ci spostiamo E facciamo Un altro Reludamento E Poi facciamo La battaglia Contro Contro Grombo Del prossimo Episodio Che dite Si può fare No Dovremmo Essere pronti Abbiamo Tutto ciò Che ci serve Ombra Brumante Scorte del Guardiano Guardiano Allora Ah Imrik Sentinella No Diamo gli Quello Da generale Questo Non è male Forse Questo Questo Qua Sì Vai lui La sentinella Ok Troppe Notifiche Ok Tu Ti sposti A questo Punto Vai qua E reclutiamo Reclutiamo Tu ti metti Così Reclutiamo Una Due E tre Ancelle Per le sole Le sorelle Dell'avero Non so Le menorancelle Ok Ci siamo Ragazzi Ok Guardate Comunque L'upkeep È molto alto Quindi potremmo Anche avere Un altro esercito In realtà Per Per come siamo Settati Nessun tipo Di problema Tiriamo Tiriamo su Un altro Punto A Imbri Che a questo Punto Diamo di Adunada Andiamo Proprio sul Generale Qui alziamo E qui Alziamo Ok Direi che Ragazzi Dobbiamo solo Aspettare Il prossimo Turno E E siamo pronti Per dar battaglia A Grom E terminare Questa serie È stata abbastanza Brevia In realtà Non so se Credo che finisca Perché dovremo fare Quella battaglia Quindi Che vuoi te? No Mi spiace Non mi pare Che ci siano Altre Altre condizioni Di vittoria Ci dice Inizia il turno Con almeno 100 punti Noi dobbiamo Alzare Ma ci abbiamo 26 Vinci l'assedio Finale Quindi Andiamo A vedere Qua Alza Alza E E abbiamo Praticamente Alzato tutto Quello che potevamo Alzare Quindi Credo Eh E qua ci siamo Dobbiamo vincere Soltanto l'assedio finale Quindi ragazzi Beh Ci vediamo nel prossimo episodio Dove faremo L'ultima battaglia Ciao a tutti ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di commentare E iscrivervi Al canale Per qualsiasi dubbio Perplessità O semplici curiosità Ragazzi Ripeto Non esitate a commentare Ciao a tutti Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.